Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi facciamo insieme sia un Q&A che un Get Ready With Me ovvero io mi paciugherò la faccia per ottenere questo risultato che insomma è stato un po' un incidente di percorso, un po' un'evoluzione però insomma non siamo qui per fare i make up artist, anzi io ripeto sempre che sono una beauty guru super poraccia non siamo qua per fare gli esperti di make up ma è solo un modo per prepararmi per girare il prossimo video, ottimizzare i tempi e chiacchierare invece insieme a voi rispondendo alle vostre domande e niente questo è l'effetto finito però fra un po' vi spaventerete perché torniamo un po' alla fase zero ovvero prima di tutto il mascherone e niente vi avevo chiesto su Instagram di farmi qualche domanda che avrei poi messo nel video e quindi se non mi seguite e magari le prossime volte volete partecipare mi raccomando andate su Instagram, sul mio Instagram che è Miss Fiction perché lì sono molto più attiva che su YouTube ovviamente per queste cose e direi che niente insomma vedrete un sacco di paciughi in faccia, lo scopo era un po' usare alcuni dei miei prodotti preferiti dell'ultimo periodo tra cui sicuramente la Sassi di Mulac e volevo anche provare insieme a voi farvi vedere questa palettina di Kaleidos Cosmetics e niente io direi che è ora di iniziare, è l'ultimo frame in cui mi vedete così e quindi direi di tornare indietro nel tempo ok non avendo nemmeno lo sbattimento di togliermi il pigiama bene ora inizierà anche la fase che conosciamo molto bene ovvero quella dove io mi tolgo gli occhiali e smetto di vedere qualsiasi cosa da qui alla fine del video finché nemmeno li rimetto quindi se vedete che strengo gli occhi è perché sono super miope e super astigmatica allora intanto che recupero le domande vado a mettermi proprio tutto perché non ho messo nemmeno la crema quindi parto dal contorno occhi visto che ultimamente ho un contorno abbastanza secco sto facendo una combo dei miei contorni occhi nel senso che qua ce n'è veramente ormai un'inezia che è quello di Kiehl's l'avocado eyes e invece questo è il Ginzing quello che uso più spesso di Origins quindi per idratare un po' ma io la pelle è veramente secca è così secca che fate conto che a me tira ed è lucida non perché è lucida di non so come dire di siero è lucida perché è talmente secca che va bene ma comunque quindi io cosa sto facendo in maniera del tutto insana sto mettendo una doppia combo di contorno occhi ma tanto non serve nulla perché tanto le mie occhiaie non le batte nessuno comunque direi di iniziare anche con le domande ci sono i gatti che stanno facendo i matti avanti e indietro dalle varie porte molto ma molto bene allora parto dalla prima domanda che mi chiede come allontanare un'amicizia tossica senza perdere tutti gli altri ok questa è una domanda abbastanza difficile allora le amicizie tossiche sappiamo bene che alla lunga non ci portano nulla di buono è sempre difficile soprattutto quando immagino da questo contesto come mi viene anche posta la domanda che questa amicizia tossica sia posta in mezzo a un gruppo e insomma il ribaltamento la rottura di questo equilibrio potrebbe portare anche all'allontanamento da tutti gli altri allora secondo me la cosa più giusta da fare in questi casi è pensare a se stessi perché rimanere in un'amicizia che non è un'amicizia ma è qualcosa di tossico malato e negativo non fa mai bene anzi certe persone è meglio perderle che trovarle e intanto ho messo la crema io uso sempre questa qua di Iplus M è una crema eco bio e quindi insomma gli voglio un sacco bene la uso da anni ed è l'unica cosa tra l'altro ancora quella idratante basta ma c'è anche quella super idratante che io non ho preso e me ne sto pentendo comunque quindi le amicizie tossiche non fanno bene a nessuno non ci fa bene a rimanere dentro rapporti malati sia perché questo è un rapporto che chiaramente non porta da nessuna parte a livello personale ma soprattutto perché è una finta amicizia personalmente parlando se all'interno di un gruppo capisco molto bene la difficoltà ne riuscire forse a far uscire questi aspetti all'interno del gruppo ma bisogna parlarne con tutti gli altri bisogna discuterne bisogna che gli altri capiscano il motivo per cui non ci troviamo bene non stiamo bene all'interno di una relazione con un'altra persona cioè se ci allontaniamo da alcune persone perché ne sentiamo la necessità e il gruppo non lo capisce forse anche il gruppo ha dei meccanismi malati e non è giusto che ci stiamo dentro anche noi quindi il mio consiglio è prima parlane magari con altre persone all'interno del gruppo e però allontana queste persone che non ti fanno stare bene è l'unica cosa che mi viene da pensare trovo la cosa più giusta intanto vado a mettere l'olio secco di Mulac, il Jewy per sempre aiutare un po' l'idratazione e cercare di fare in modo che la mia pelle non esploda con il make up sento molto una demente molto poco professionale però voi sapete che non siete qui per della professionalità giusto? bene vado alla seconda domanda che è di Elisa che mi chiede secondo te come si acquisisce fiducia in se stessi? ragazzi mi avete fatto solo domande facili devo dire fino ad ora e immagino che continuerà così allora la fiducia in se stessi è un percorso difficilissimo io sono stata molto insicura e la mia insicurezza mi ha portata a fare per me insomma per me la sicurezza e l'insicurezza mi hanno portata adesso una persona molto chiusa molto diffidente molto arrabbiata e spesso risentita nei confronti degli altri anche immotivatamente cioè io ora lo capisco ai tempi non lo capivo per cose che magari non trovavo giuste per cose che mi sembravano sempre insomma squilibrate mettiamole in questo punto da questo punto di vista qui allora come ho iniziato a capire come lavorare sulla fiducia in me stessa la fiducia in me stessa è arrivata spesso per me almeno per me da soddisfazioni professionali so che non è il motivo per cui a tutti arrivano queste soddisfazioni per me lo è stato ed è stato molto forte per me però capisco che non sia così per tutti c'è chi acquisisce fiducia in una relazione c'è chi acquisisce fiducia grazie alle amicizie c'è chi acquisisce fiducia grazie semplicemente al mettersi in contatto con insomma fare un po' pace con se stessi secondo me non c'è un metodo unico per tutti dipende a me il lavoro ha dato la possibilità di acquisire fiducia perché indipendentemente da ciò che fosse il mio background indipendentemente da ciò che fosse la mia provenienza il mio lavoro mi permette di essere una persona che viene ritenuta competente questa è una cosa che a me dà grande fiducia perché io sento di avere bisogno in questo ambito di fiducia e me l'ha data anche su tutto il resto poi ad esempio per me è un grande salto di fiducia è stato capire dopo l'università che insomma dovevo prima di tutto fare pace con me stessa da certi punti di vista sono andata in terapia e bla bla insomma per ognuno è una cosa molto diversa il mio suggerimento è sempre di provare a capire ciò che ci mette in difficoltà ciò che ci fa sentire in difetto rispetto agli altri e cercare di lavorare su quei punti che noi troviamo molto rigidi per noi ad esempio io sono sempre stata una persona molto arrabbiata e questo mi ha sempre resa molto spigolosa nei rapporti con gli altri mi sono sempre resa conto che mi ponevo agli altri sempre partendo da un presupposto negativo non so come dire cioè partendo con un muro alzato chilometri ecco e quel provare a lavorare su di me cercare di non impormi in quel modo cercare di dare invece cioè fare uno sforzo in più per provare a non essere dittatoriale già dal primo incontro mi ha aiutato piano piano a cercare di lavorare anche su altri aspetti però ripeto è una cosa molto personale perché tutti noi abbiamo approcci diversi caratteri diversi storie diverse e questo ci porta ad avere insicurezze molto diverse c'è chi magari ha insicurezza ad esempio sul lato estetico c'è chi prova forte insicurezza per non so per il lavoro per la mancata realizzazione c'è chi è super insicuro perché non so ha dei problemi nelle relazioni c'è chi è insicuro per mille milioni di miliardi di motivi cercate di capire quale è il motivo per cui voi lo siete e come potete lavorare invece per migliorare piccoli aspetti di ciò che vi rende insicuri Giorgia un'altra Giorgia mi chiede come si supera vivi la prima sessione invernale allora intanto vado anche a mettermi il fondotinta uso la spugnetta di puro bio che ho preso durante i saldi di ecco verde e è la spugnetta più morbida mai realizzata è già un po' lercia perché l'ho usata già un'altra volta allora come si supera la sessione invernale ah niente si porta tanta pazienza ricordati che il giorno in cui finisci gli esami potrai uscire e ammazzarti di spritz o birra o qualsiasi cosa tu beva te lo auguro per rimediare a tutto questo niente secondo me è l'unico modo per sopravvivere alla sessione invernale e io che do consigli sullo studio sono stata studentessa peggior proprio organizzata a cazzo di cane in una maniera imbarazzante veramente comunque insomma la cosa che forse trovo utile è darsi proprio un grande programma cercare di portare pazienza ricordarsi soprattutto che se non si passano gli esami non si passa uno o due esami non succede nulla si ridanno si possono ridare e ci saranno altre occasioni e comunque insomma date il massimo di voi fate il massimo provate a organizzarvi con un piano di studi e anche un piano di esami cioè dare l'esame cercare di prendersi un po' di tempo per tirare il fiato poi buttarsi su quello dopo insomma non disperate poi vabbè io non avevo la sessione invernale perché noi avevamo gli esami tutti i mesi più o meno potevamo scegliere quali esami fare perché non c'era una vera e propria sessione quindi ho molto poca esperienza della sessione intensa però ricordatevi che il risultato di un esame non definisce chi voi siete e cosa siete quanto valete ok questo tenetelo sempre a mente però impegnatevi sicuramente per farlo al meglio per portarvi a casa quello che volete il risultato che volete ottenere allora direi che più o meno anche con il fondotinta ci sono non ve lo dico neanche più io uso sempre quello di Bare Minerals perché è coprente ma in maniera molto molto leggera è molto naturale e quindi vabbè ma a proposito di cose naturali adesso andiamo a mettere il correttore di Jeffree Star che insomma speriamo mi renda un po' tutto meno che naturale non lo do con la spugnetta perché sto provando ultimamente a metterlo con un pennellino perché ho sempre un po' paura che la spugnetta lo assorba moltissimo mentre adesso provo con un pennellino in questo caso è piatto non è quello ideale forse ma mi trovo abbastanza bene a stenderlo con questo quindi insomma adesso sto facendo questa prova poi dopo lo vado un po' a compattare con la spugnetta vado anche alla prossima domanda Matteo mi chiede personaggio letterario in cui ti rivedi di più penso di aver già risposto anche numerose volte se devo pensare proprio a un personaggio che mi rappresenta in primis mi viene in mente sempre e solo la grande e la unica e la Tiffany del passato Elizabeth Bennet perché capisco la voglia di ribellione capisco la rabbia capisco la frustrazione capisco le questioni di classe capisco tante cose e quindi insomma mi sono sempre 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 rivissuta molto in Elizabeth e quindi mi viene subito a primo acchitto da dire lei poi devo dire che invece ho tantissimi personaggi ispirazionali ultimamente però insomma non dilunghiamo questa domanda ovviamente come vedete il correttore su di me non serve a nulla perché tanto abbiamo le occhiaie della vita però comunque se poi non stanno nemmeno usando dei correttori cromatici quindi insomma sti cazzi ma tanto dobbiamo fare un video quindi non ci interessano questi tecnicismi e queste precisioni comunque lo do anche già lo stendo già sulla palpebra così dopo che vado a mettere quinta latte di ombretto ho già la palpebra umida e siamo a posto allora per chi poi non sapesse nulla di queste robe non gliene frega niente del make up braga schippate tanto sti cazzi sopravviveremo benissimo allora andiamo invece alla prossima domanda perché ella mi chiede mi sono dichiarata e sono stata rifiutata ora mi vergogno da morire a provarci con altri help no cicci mi dispiace può capitare anzi non ti preoccupare nel senso capisco la delusione capisco anche il senso di pipì anche pipì è dalla tua parte dispiaciuta per tutto quello che è successo allora allora mi sono appena accorta di aver fatto la base di aver fatto una minchiata perché ovviamente qua solo minchiate nel senso che ho fatto la base prima di fare gli occhi in questo caso non è una buona idea per ciò che andremo a usare dopo quindi come sostituisco come risolviamo questa questione in pratica io non uso mai tipo ciprie in eccesso polvere in eccesso perché ho la pelle secca se no mi vengono mi si segna tutto eccetera vabbè ma anche perché non gliene frega niente quindi cosa faccio uso questa cipria che mi si è rotta di Neve Cosmetics e la vado a mettere qua sotto proprio come se fosse una polvere facciamo un po' effetto peggiori bar di Caracas però mi servirà dopo che la metto un po' in abbondanza così se fa fall out tutto l'ombretto non succede niente niente inizio a fare gli occhi perché ci metterò una vita quindi parto oggi facciamo un trucco con la Kaleidos futuristic pink un po' per riprodurre il look o un po' l'ispirazione che avevo nel video del dell'orosco fiction perché mi era piaciuto molto usare il blu non l'ho ancora usato poi mi è stato chiesto insomma vabbè ma comunque quindi provo a usare tutto questo mi farò dare una mano dalla palettina di Neve Cosmetics quando ho bisogno un po' di smorzare non smorzare comunque cerco di rimanere soprattutto su quella intanto vado con un pennellino fitto a sfumare l'ho già usato sullo stesso colore questo colore qua che è una sorta di mauve molto molto chiaro molto molto blando per fare un pochino già vedete quanto sono pigmentati anche quelli chiari qua poi ne prendo invece uno più ampio perché qua ho proprio scazzato in realtà e qua invece cerco di prendere un pennellino più ampio per riuscire a sfumare parecchio allora invece venendo alla domanda allora ci dispiace tanto nel senso che può capitare succede a tutti è successo nella vita di essere rifiutati di insomma provare anche quel senso di insicurezza che ti dà il rifiuto perché soprattutto poi si tratta di quello perché ti sembra che se succede una volta succederà per sempre così insomma la sensazione è un po' quella e lo so a me dispiace un sacco perché mi rendo conto che poi sembra sempre che ributtiamo su di noi una cosa che in realtà è più che naturale è normale non tutti si sentono attratti o comunque provano qualcosa nei confronti della persona che magari invece è interessata a loro e vorrebbe qualcosa di più ricordati che le motivazioni per cui questa cosa è successa sicuramente non dipenderanno da te ma tendenzialmente sono più riservate alla persona che ti ha rifiutato magari non è scattato qualcosa non prova gli stessi sentimenti ha altre idee altri piani insomma non dipende sicuramente da te dalle tue qualità da ciò che sei quindi il mio consiglio è non demordere nel senso che ricordati sempre che per arrivare a una bella occasione bisogna fare fatica e ricordati che succederà nei momenti anche meno meno prevedibili ecco quindi probabilmente questo ti darà invece la possibilità di capire meglio un pochino le persone cercare di capire chi ti piace perché ti piace in che modo approcciarti al prossimo in che modo magari aprirti di più e cercare anche di metterti un po' più in gioco probabilmente non lo so a me dispiace sempre quando c'è il rifiuto perché sentiamo davvero come se il rifiuto fosse colpa nostra noi abbiamo qualcosa che ci manca un qualcosa che evidentemente qualcun altro ha e noi non abbiamo e quindi un'altra persona non ha fatto click con noi e non si è innamorata o non gli piacciamo evidentemente non valiamo abbastanza in realtà non è quasi mai così purtroppo le persone provano sentimenti per altre persone in maniera non sempre logica non sempre razionale quindi il mio davvero consiglio è non non fare in modo che questo diventi un qualcosa che ti frena perché non è mai così in tutto ciò devo fare gli occhi perché sennò non finirò ma allora prendo se lo trovo forse un pennello piatto perché mi serve per mettere il fucsia poi dopo lo andiamo a sfumare ok prendo questo pennellino molto piccolo come vedete ho questo in realtà non è un fucsia è un viola metto più o meno all'altezza della palpebra adesso adesso lo distribuisco con questo così riesco ad averlo abbastanza fisso poi dopo adesso lo andiamo a sfumare abbondantemente però ci tenevo che fosse un colpo di colore abbastanza denso magari viene una roba orribile ora vado con un pennello molto più largo a sfumarne i contorni e a non esageratamente in alto perché non voglio che diventi sparso su tutta la palpebra però non voglio che abbia tutta questa compattezza tornando invece a come cercare di risollevarsi da questa situazione allora la cosa che ti consiglio è cercare di pensare innanzitutto a te quindi non pensare a te come qualcuno che non è degno di piacere a un'altra persona come se questa cosa ti abbia insomma messo addosso una croce irrimediabile capisco che è poi tanto una questione di sicurezza perché bisogna che insomma si veda si inquadri tutto questo che ti è capitato che è normalissimo che ti capiterà anche altre volte purtroppo però insomma succede succede a tutti è successo a tutti e non ti fare venire paranoia non è un problema che è tuo ci sta che un'altra persona non provi i tuoi stessi sentimenti e le persone purtroppo non si possono purtroppo meno male non si possono forzare a provare certe cose adesso sto facendo un bordello ma poi capirete come lo vado a sistemare perché facciamo una cut crease ripeto non pensare che visto che ti è successo questa cosa ricapiterà sempre ci saranno invece anche momenti che non ti aspetti ci saranno altre occasioni altre persone e questo non ti deve fermare perché sicuramente il tuo valore non dipende da questa storia evidentemente non doveva andare e probabilmente meglio così e anzi questo ti farà guardare probabilmente intorno e spero che insomma non ti fermerà questa cosa perché non ne vale la pena davvero non vale mai la pena di soffermarsi su persone che non so come dire non vanno bene per noi non vogliono stare con noi non sono felici non ci apprezzano magari oppure magari ci vedono come amici cosa che insomma la friendzone sapriamo che è sempre dietro l'angolo quindi tranquillamente allora Erika invece mi chiede farai mai un fantasy talks o un video dedicato ai vampiri allora fantasy talks no perché i fantasy talks sono più incentrati sul genere che sulla tematica vera e propria cioè sul contenuto però appena ho finito il podcast della strega ho iniziato a buttare giù un percorso su cui si potrebbe sviluppare un secondo podcast sulla figura del vampiro è super super agli albori quindi non voglio nemmeno perderci troppo tempo il vampiro è una figura che per me è molto molto importante è una di quelle formative per me perché un rise e non solo insomma quindi insomma ci terrei davvero a parlarne e ho avuto anche la benedizione dalla guru dei vampiri ovvero Erika di Redwood Erika quindi insomma vi farò sapere spero presto però non voglio mettere avanti le mani perché non ho non ho veramente ancora buttato giù a parte ciò che vorrei che tematicamente uscisse un po' la scaletta non l'ho buttato giù nient'altro devo fare un sacco di ricerca ma il problema è che i fantasy chocks mi portano via moltissimo tempo quindi non posso fare tutto anche io devo ricominciare a rendermi conto che sono limitata comunque in quest'occhio l'ho sfumato benissimo in questo invece l'ho sfumato da cani allora poi con un pennellino che è vecchissimo ma anche bello rovinato forse lo devo buttare che penso fosse di Real Techniques ma non ne sono certa vado a prendere ancora del magenta picchiettarlo sempre sulla palpebra e intensificare un pochino però in maniera non troppo uniforme anche in questo caso ma ora capirete che cosa ho intenzione di fare vado avanti con le domande allora salto un po' tutti quelli che mi hanno chiesto hai letto questo hai fatto quello perché tanto se non le ho letti non ha senso Camilla mi chiede ho 21 anni e vorrei andare a vivere da sola ma faccio fatica a gestire studio lavoro vita privata consigli allora io forse non sono una persona più indicata perché durante i miei studi io non avevo l'opzione di non lavorare e quindi nel senso capisci se innanzi allora innanzitutto andare a vivere da soli è una scelta importante quindi la cosa che ti suggerisco è di fare molto bene i calcoli cioè capire quanto guadagni quanto ti serve per gli affitti quanto ti serve per i trasporti quanto ti serve per tutto cioè falli molto bene questi calcoli è una cosa molto utile a mio parere poi dopo insomma dipende anche quale disponibilità hai perché ovviamente vivere da soli è uno sbatto perché ovviamente vivere da soli è complesso spesso molte volte è complesso quindi il mio suggerimento è di farlo una volta che hai capito bene a livello economico come riuscirai a incastrare o forse sono io che sono talmente traumatizzata dal lato economico di quegli anni che probabilmente è la prima cosa che mi viene in mente intanto vado a fare la cut crease con il correttore di Nabla che io ormai uso solo per questo perché a me non piace come correttore mi segna manco ci avessi cent'anni in compenso per fare questo tipo di lavorazione è perfetto questo almeno riesco a riutilizzarlo a non buttarlo via ecco almeno quello allora quindi quindi insomma l'atto economico è la prima cosa che mi viene in mente da suggerirti però magari è banale poi ripeto magari li avrai già anche fatti i tuoi calcoli poi altra cosa che ti suggerisco è di capire come incastrare tutti gli orari organizzarti ricordati che se abiti da solo dovrai avere a che fare con dei conquilini perché a meno che tu non prenda un monolocale allora probabilmente l'atto economico non si pone quindi comunque vi dovrete dividere tutta la parte di pulizia e gestione della casa perché sennò la casa insomma finisce per gestirtela un coinquilino non è possibile non è insomma non si è mai sentito che un solo coinquilino si immola per tutti gli altri dopodiché insomma invece se devi trovare lavoro ecco io ti consiglio di trovare prima lavoro vedere come ti riesci a organizzare tra università e lavoro e poi capire se ci stai dentro con i soldi e tutto per riuscire ad andare a vivere da sola mio consiglio non fare mai dei gesti inconsulti semplice banale praticità economica ecco allora visto che ho fatto queste due alette più chiare vado col dito anzi non andiamo col dito facciamo le persone serie vado con un pennellino piatto a lingua di gatto a prelevare un po' di colore ma questo rende molto meglio con le dita però intanto lo inizio a distribuire cioè vedete che sbam io queste palette le amo veramente vabbè comunque non siamo qua per parlare di make up ma per dare suggerimenti di vita quanto fare oggi allora sebastiano che saluto chiede credi di essere cambiata come lettrice ci sono stati per te dei libri spartiacque allora io sicuramente sono cambiata come lettrice ve ne parlavo già in un video che era un get ready with me secondo me proprio qualche mese fa però io faccio sempre coincidere il mio cambiamento come lettrice al mio cambiamento personale cioè come io sono cambiata nel corso degli anni è cambiato molto il mio carattere ed è cambiata quindi di conseguenza moltissimo ed è cambiato quindi di conseguenza anche il mio approccio alla lettura sono due cose che io ho sempre visto coincidere molto come lettrice allora diciamo che se dovessi dirti non riesco più a leggere certi generi no non è vero nel senso che queste io le trovo sempre delle boiate atomiche tipo non riesco più a leggere non leggo più robe per ragazzi non leggo più robe per secondo me queste sono un po' minchiate scusatemi io sono sempre molto diretta nel senso che una volta che si sa che ci sono certe cose dentro un genere più o meno può piacere o no ma non è che non riesco più non so sono cose a cui io non credo però ci sta adesso vado col dito anche a intensificare un altro po' che bello questo colore però è vero anche che diciamo che ho avuto molte fasi ho avuto fasi molto intimiste a livello di lettura cose che ora invece evito come la peste proprio le balzo le balzo con una voracità assurda non voglio assolutamente leggere robe estremamente intimiste perché dopo dovrei fare i calcoli con le mie emozioni e questa cosa mi mette sempre molto in difficoltà ovviamente come sempre campionessa mondiale di balzo delle problematiche comunque raga ha fatto pochissimo fallout vabbè però devo dire forse la cosa che più è cambiata in me come lettrice ora vado a prendere del nero invece qua c'è questo nero glitteratino che io andrò a mettere un pochino nell'angolino cioè non so se ho reso l'idea ho appoggiato il pennello va bene pipì hai rotto la minchia comunque insomma il succo è che fondamentalmente magari ho dei periodi dove ho più voglia di leggere una roba rispetto a un altro più voglia di leggere un genere rispetto a un altro dipende tanto anche come sto io psicologicamente però ecco se dovessi pensare ai libri spartiacque ce ne sono ce ne sono sicuramente tra i miei libri spartiacque ci metto Harry Potter ma l'ho sempre detto lo sosterrò sempre che mi ha proprio cambiata come lettrice ci metto assolutamente la bussola d'oro perché dopo la bussola d'oro io ho preso una decisione molto molto radicale è stata la prima decisione radicale che ho mai preso nella mia vita in maniera proprio fisica quindi insomma per me è un libro importante poi penso che i libri più importanti che abbia mai letto nel corso della mia crescita rimangono comunque anche delitto e castigo anche se non è il mio libro preferito di Dostoievski però lo è perché insomma sicuramente è stato a parte una grandissima sfida perché io l'ho letto proprio tra l'estate tra la terza e la quarta superiore o tra la quarta e la quinta no terza e la quarta è un libro incomprensibile diciamo senza un po' una base una formazione e io però ero fissata volevo leggerlo era una sfida ci ho messo tutta l'estate ma l'ho letto perché avevo già letto invece le notti bianche che è il suo libro che io preferisco poi devo dire probabilmente anche gli altri miei libri preferiti quindi ci metto la luna e falò che ho letto durante il periodo universitario ci metto ah e poi metto Sartre che ho letto in quinta superiore e Sartre per me è stato definitivo Sartre e la bevoa sono diventati parte integrante proprio della mia cultura Ivana mi chiede invece se mi manda in panico leggere più libri contemporaneamente oppure ne leggo uno alla volta allora tra l'altro devo avvicinare perché non vedo veramente nulla quando sfumo e allora io leggo in realtà più di un libro alla volta tendenzialmente anche tre a volte quattro non di più perché non ce la faccio ma perché io riesco a ritagliarmi il mio libro per quel momento cioè se sono stanca magari non ho voglia di un libro impegnativo leggo una cosa poi magari il giorno dopo sono più motivata ho più neuroni funzionanti cose di questo tipo che con me è sempre un prenderci e quindi magari ho voglia di leggere un'altra cosa un po' più impegnativa poi magari sto leggendo un fantasy poi però voglio anche di una cosa che non sia fantasy poi c'è voglia di leggere un saggio io ragiono molto alla giornata quindi vado molto sentimento vado avanti e living on a page mi chiede come ti sei avvicinata alla musica allora in casa mia si è sempre ascoltata tanta musica mio babbo è sempre stato super appassionato di rock in generale soprattutto tutto punk mia mamma invece è una grande appassionata di musica italiana quindi insomma in casa mia si è sempre ascoltato musica io poi sono diventata parecchio parecchio appassionata fin da bambina in realtà sono una che andava proprio ad approfondire andava in edicola a comprare le riviste musicali non so come dire io per tanti anni mi immaginavo come una critica musicale non potevo vedermi in nessun'altra veste e poi in adolescenza per me la musica è ciò che mi ha salvata quindi non so come dire per me la musica è talmente imprescindibile è talmente qualcosa di fondamentale non solo nelle mie giornate ma proprio in tutta la mia vita e quindi non riesco a immaginarmi senza aver ascoltato tutti i dischi che ho ascoltato senza aver visto tutti i concerti che ho ascoltato e visto vi dirò che è un po' diverso da quello che avevo in mente ma non mi dispiace questo trucco ovviamente è sobrio come sempre ma tanto alla fine noi non siamo qui per la sobrietà dopo vado a fare qualcosina sotto ma prima pulisco questa parte qua comunque non c'è c'è pochissimo fallout oggi ad esempio che invece in altre occasioni avevo visto un po' di più allora quanti gatti hai e come si chiamano si chiamano pupi e pini no ufficialmente si chiamano edgar e maria antonietta nel senso che edgar è quello nero ed è un maschio e ha quasi otto anni invece maria antonietta detta pipi è una femmina ha cinque anni e insomma sono la gioia della mia vita i miei bambini poi nelle mie storie spesso ne vedete altri perché in casa dei miei sta diventando praticamente praticamente un rifugio per gatti trovati e vabbè è un po' complessa la questione allora Miriam mi chiede invece mi piace un ragazzo del quinto che non sa neanche che esisto io sono il terzo consigli allora questo è difficile nel senso che dovrei avere un po' di background story perché così è veramente difficile uso intanto l'eyeliner di Clio no facciamo che non ce la faccio a fare questa cosa allora stravolgiamo i piani vado a fare il viso perché se no non riesco a farvi anche a parlare non ce la faccio quindi facciamo queste cose alla fine uso sempre la sassi sia per fare il bronzing che il blush che l'illuminante allora come cercare allora come provare a entrare nelle grazie eccetera di un tipo del quinto allora innanzitutto ti direi di cercare di capire chi è cosa fa nel senso che se lui non sa nemmeno che esisti bisogna un attimo che vi conosciate o comunque che capisci che cosa fa dove sta cioè dovete entrare in contatto in qualche modo ma anche soprattutto per te io lo dico perché magari è bellissimo ti piace tantissimo però non lo conosce molto bene quindi magari non so io ho sempre avuto paura dell'effetto apre la bocca e a me cascano le palle non so se a voi è mai capitato però io ad esempio alle superiore mi piaceva tantissimo un tipo la prima volta che ci ho parlato dopo mesi di super cotta è stato allucinante ma dai ma questo è capitato a chiunque secondo me quindi insomma capisci intanto quella cosa lì perché secondo me non è scontato che insomma tipo che ti può piacere ha del potenziale così quindi devi cercare di capire insomma un po' anche dove vi potete incontrare magari conoscere parlare non so conosci i suoi amici conosci qualcuno con cui lui esce in modo che anche tu puoi cercare di entrare in contatto o con i suoi amici o con lui però devi un po' conoscerlo ogni tanto quindi ottime occasioni sono le assemblee d'istituto le insomma uscite weekend non so se fate qualcosa se organizzate qualcosa organizzate delle attività magari con tutta la scuola questo è sempre molto utile queste sono le cose che mi vengono in mente oppure se avete cioè davvero prova a mettere in mezzo degli amici gli amici di lui la cosa più semplice che mi viene in mente madonna mi sento vecchia a pensare alle superiori Elena che è molto simpa mi chiede invece ciao cara Paola come mai hai scelto il nome Tiffany perché c'è sempre la gente che mi chiede perché mi chiamo Tiffany e qual è il mio nome vero ahimè il mio nome vero è sempre quello Chiara invece mi chiede quali sono i tuoi riferimenti per il femminismo autori e autrici artisti e attivisti allora io devo dire che mi sono avvicinata al femminismo oh c'è Pipi qua con noi mi ha detto una coda così mi sono avvicinata al femminismo grazie a Simone de Beauvoir però devo dire che nella mia fase iniziale di avvicinamento non so come dire c'è una fase nella vita soprattutto quelli dove siamo molto giovani dove alcune cose non le abbiamo ancora sperimentate quindi per me è stata proprio una grandissima crescita nel senso che proprio nei miei vent'anni io ho compreso tante cose tanti meccanismi ho cercato anche di metterli in atto io personalmente a parte Simone perché tutto ciò che dice per me è condivisibile su tantissimi aspetti ci sono persone che stimo molto perché fanno bene il loro lavoro io non stimo solo delle attiviste stimo chiaramente chi riesce da un lato comunicativamente ad arrivare a tante persone banalmente Emma Watson quante persone ha riavvicinato al femminismo e alle questioni di genere per farvi un esempio molto banale invece diciamo che dopo Simone che sicuramente io annovero tra coloro che mi hanno avvicinato illuminato e mi hanno fatto capire insomma le basi ecco sicuramente ci metto tante autrici in primis Maya Angelou che oltre che un'autrice un'attivista e mi ha fatto conoscere talmente tante cose che le devo moltissimo ci metto Margaret Atwood ci metto Zadie Smith tante persone che stimo ma ci metto in mezzo Kathleen Anna sicuramente perché anche la parte la componente musicale è stata una fortissima spinta verso il femminismo in primis da lei poi insomma sono tanti i miei riferimenti e credo che però siano quelli che mi hanno avvicinato a certe tematiche però devo dirvi una cosa soprattutto lavorando alle varie campagne a cui sto lavorando ultimamente mi sono avvicinata molto a chi si occupa di femminismo e questioni femministe tutti i giorni quindi i miei più grandi riferimenti sono ovviamente nella vita reale chi lavora al centro delle donne qua a Bologna le varie associazioni la biblioteca insomma ci sono quelli sono i miei riferimenti ecco Luigi mi chiede attraversa specchio sei di corvi sei di corvi chiaramente sei di corvi comunque io ho finito il viso adesso devo fare almeno le sopracciglia quelle forse ce la faccio a farle l'illuminante poi lo metto alla fine intanto faccio questo uso questo qua di Essence che è l'Eyebrow Style Set che l'ho preso qualche settimana fa non mi sto trovando male allora invece torniamo a noi facciamo le domande Giù mi chiede vado negli US per fare un post dottorato lasciando qui in Italia fidanzate e famiglia egoista secondo te assolutamente no allora facciamo un discorso anche ampio e sensato allora ahimè tutto ciò mentre sto cercando di farmi le sopracciglia quindi serissimo verrà fuori il discorso allora io trovo sempre più atroce che noi siamo sempre più costretti ad emigrare per avere insomma tutto ciò che dovrebbe garantirci il nostro bellissimo paese il problema è che non lo fa quindi personalmente se penso che questa occasione per te di post dottorato sarà qualcosa di importante ti formerà ti darà la possibilità in tutta la vita di accedere a delle possibilità migliori e formarti meglio perché immagino che tu ovviamente abbia fatto tutte le tue valutazioni per poter fare la domanda di richiesta di dottorato non so allora una relazione può continuare tranquillamente bisogna solo averne la volontà capisco sarà dura sarà difficile capisco tutte le problematiche che si porta dietro il fatto di stare a distanza però oggettivamente immagino che tu non stia via vent'anni ma starei via uno due tre anni e quindi ci si può organizzare si può fare qualcosa insieme soprattutto se per la tua formazione e ripeto non è che vai lì per altri motivi se poi capisco il dispiacere e la difficoltà però pensa al tuo futuro pensa a quante possibilità in più ti può dare questo dottorato e io non lascerei perdere se poi la relazione dovesse finire evidentemente non era cosa che oppure avevate esigenze diverse insomma ricordati sempre quello spero che ovviamente non vada così spero tutto il meglio ti auguro tutto il meglio ovviamente però ricordati che questo è un investimento che tu stai facendo anche dal punto di vista emotivo perché comunque insomma stare via lontani in una terra straniere eccetera è complesso ma non fare in modo che qualcun altro decida per te ecco allora invece Claudia mi chiede come si fa a vivere con l'ansia ne ho sofferto per anni insieme alla depressione non accena ad andarsene ho paura di avere attacchi di panico per il resto della vita e di stare male per questo stella intanto supporto mi dispiace tantissimo capisco bene cosa significhi vivere in questa situazione allora la prima cosa che ti suggerisco chiaramente è di chiedere aiuto perché da sola non ce la puoi fare mi spiace cioè è una cosa di cui ci dobbiamo non c'è nulla di cui vergognarsi ci dobbiamo solo convincere che è il passo giusto da fare anche quando abbiamo davvero due spicci investirli in un buon terapista è utile se non hai soldi da parte puoi comunque accedere alla terapia grazie all'asla quindi tranquillamente io ho fatto così quindi non ti preoccupare sono molto bravi e non ti preoccupare davvero supera lo stigma del chiedere aiuto perché chiedere aiuto è la cosa che ti salverà la vita è la cosa che ti farà dormire la notte è la cosa che impedirà di avere 800.000 attacchi di panico ogni due secondi non avere paura non pensare che sia qualcosa di sbagliato che sei debole perché chiedi aiuto che quello che stai facendo non va bene quando si vive un momento di difficoltà e poi io sto facendo questo ragionamento perché anche io ho come obiettivo tornare in terapia quest'anno quindi insomma è una cosa che sto dicendo anche a me io davvero l'unica cosa che mi sento di dirti è non avere paura di chiedere aiuto perché da sola non ce la puoi fare cioè da sola è la cosa più sbagliata di tutte pensare di poter capire pensare che insomma sarà la cosa che ti aiuterà farti forza da sola non è la soluzione perché non hai gli strumenti sicuramente per gestire tutto è normale in fondo la terapia serve soprattutto per darti gli strumenti per vedere in prospettiva e riuscire a gestire le situazioni che ti capiteranno in futuro dopo aver anche magari elaborato ciò che te le provoca quindi davvero io ti mando super supporto un abbraccione non avere paura di chiedere una mano a uno specialista se hai paura fallo prima chiedendo un parere al tuo medico di base che è quello che ho fatto io mi ha dato una grossa mano mi ha indirizzato mi ha detto cosa dovevo fare non ti preoccupare non pensare che sarai debole se chiedi una mano ma da sola non puoi gestire tutto da sola non ti passeranno gli attacchi di panico ti verranno ancora più ansie che ti diranno per tutta la mia vita io vivrò così io ringrazio il giorno in cui sono andata in terapia è stata durissima ma è la cosa che mi ha salvato la vita non lo dico con leggerezza quindi davvero non ti preoccupare non c'è nulla di male non c'è nessuno stigma anzi secondo me questo è un buon momento per anche cercare di sensibilizzare che ti sta attorno su questo tema cioè dire oh ragazzi ho bisogno devo andare in terapia allora banana mi chiede come ci si riprende da nana esistono gruppi di supporto no nana non è un qualcosa da cui ci si riprende nana è uno dei traumi adolescenziali che ti rimarrà addosso per sempre e non ci si riprende cioè non c'è proprio verso di riprendersi cioè nana è una botta nel cuore ed è finita ah poi c'è un altro pezzo che dice dragon prince 3 ti è piaciuta sì ve ne avevo parlato nei preferiti quindi non sto neanche a dilungarmi su quanto sia bello come prodotto di animazione dragon prince la sua da sfumare così effettivamente sembra che ho ucciso qualche qualcuno per strada dopo questo fucsia sotto gli occhi comunque palla sulle nuvole mi chiede quest'anno vorrei leggere più biografie qualche consiglio secondo me devi capire il tipo di biografia che vuoi leggere nel senso che ci sono biografie storiche ci sono biografie dedicate a personaggi non so politici che quindi la loro biografia ripercorre soprattutto anche l'aspetto politico della loro vita ci sono biografie a riguardo personaggi di spicco cantanti eccetera eccetera io leggo spesso sia biografie storiche che personaggi dei quali sono interessata ho letto anche la biografia di michelle obama l'anno scorso non è malvagia non so dipende veramente troppo da cosa ti interessa quindi non saprei dirti una biografia da leggere mer mi chiede farei un video sulle tue opinioni riguardo al cast di shadow and bone non credo voglio vederlo completo voglio vederlo prima di perché non so mi ha già non so tanto non ho grandi aspettative sulla serie purtroppo allora claudia mi chiede invece spesso se leggo un libro non cartaceo una volta finito non ricordo nulla consigli? prendi appunti anche su l'e-reader sul kindle su quello che stai usando che ti possono aiutare basta metterli nelle note sottolinea le parti che trovi rilevanti insomma esattamente come faresti su un libro allora Eri mi fa la domanda invece più bella che io abbia mai ricevuto perché ho reso un'ora quando l'ho vista ed è domanda trash come sarebbe six of crows se a scriverlo fosse stata la mass ecco allora a parte sarebbe stato un libro orribile però tutto ciò devo finire tipo il trucco però allora immaginatevi tutto ciò che non doveva succedere in sei di corvi perché insomma stiamo parlando di persone che devono affrontare un trauma ecco in questo caso noi invece che affrontare il trauma li facciamo tutti accoppiare ma insomma sarebbe stata la fiera del tromba d'essere manga perché alla fine dovevamo arrivare lì con i libri della massa arriviamo sempre lì e si sarebbe perso sicuramente il senso fondamentale di tutti questi personaggi e del senso delle loro relazioni sarebbe stata una trashata unica non lo so se ce la faccio ad esprimermi comunque adesso metto anche l'eyeliner off camera perché non ce la faccio a fare tutto così cioè non sono in grado Bianca Neva mi chiede invece la marca dei miei occhiali nuovi i miei occhiali nuovi sono di Vogue Eyewear erano degli occhiali da sole io però le ho trasformate in occhiali da vista allora mi chiedono invece non so che facoltà prendere per poi lavorare nel mondo dei libri e comunicazione web allora qualsiasi facoltà tu prenda non lavorerai nel mondo dei libri per fare comunicazione web scusa allora facciamo così intanto mi metto anche il mascara dopo questa mia brutale entrata allora nel senso no vabbè dai a parte essere molto scettici e molto poco negativi allora l'editoria è un mondo dove secondo me non ci sono tanti sbocchi barra è un mondo che ha bisogno di una profonda rivoluzione interna ha bisogno di un profondo ripensamento nelle sue strutture nella sua comunicazione nel suo linguaggio nel suo approccio nelle sue strutture insomma c'è tutto da rivedere secondo me per certi versi dal punto di vista della comunicazione ecco quantomeno gestione della parte marketing ecco quindi io ti direi che se vuoi lavorare in editoria dal punto di vista comunicazione tu puoi fare fondamentalmente o comunicazione puoi fare comunicazione di impresa puoi fare io ho fatto lettere lavoro in comunicazione non è fondamentale aver studiato qualcosa verticale sulla comunicazione se poi non approfondisci dal punto di vista pratico ecco a me ha aiutato ovviamente unire delle competenze tecniche nel senso che io comunque lavoravo come fotografo ho lavorato in ambienti di comunicazione come grafica eccetera questo mi ha permesso poi di unire tutte le altre competenze e poi approfondire e studiare ciò che è legato invece all'aspetto più marketing l'unica cosa è pensaci molto bene nel senso che in comunicazione e in generale in comunicazione digitale c'è lavoro perché ovviamente è un ambito che ha degli sbocchi che ha bisogno di persone formate e competenti non so se l'editoria è l'ambiente migliore perché in editoria come ne abbiamo già parlato più volte sono molto impreparati molto incompetenti perché il tema è quello ti troverai davanti una serie di persone che dicono che la comunicazione digitale non serve che non credono a questo quello che sanno loro che funziona come nel 1994 anche se non sanno idea di come funziona la promozione digitale le campagne digitali gli strumenti non sanno nemmeno quali sono e come funzionano forse hanno aperto facebook nel 99 no sto scherzando non c'era neanche però vabbè quindi quello che ti suggerisco io è scappagambe levate dall'editoria clad mi chiede invece hai letto the foxhole kurt e sì l'ho letto è un libro orribile ma c'è una buona introspezione dei personaggi tutto il resto è una roba imbarazzantemente indecente comunque c'è per quanto hai anche spiegato bene indagato veramente molto bene il personaggio in foxhole comunque è molto caotico perché tutto il resto è fatto con i piedi i gomiti e non ho capito però a livello di indagine approfondimento del personaggio introspezione del personaggio è buono il problema è che tutti gli altri sembrano molto indistinguibili poi allora Gaetano invece mi chiede cosa ne pensi dei tuoi colleghi youtubers ai quali viene proposto di scrivere un libro a te è accaduto? no per fortuna a me non è accaduto anche perché io non ne sono assolutamente in grado comunque guardate che ciglia fan questo mascara di Clio io odio mettere mascara perché poi lo devo struccare sono pigra comunque allora no a me non l'hanno proposto a ragion veduta ovviamente di scrivere un libro anche perché sono veramente minuscola e non avrebbe senso di poi di che cosa vado a raccontare di c'altro naggine ovviamente sarebbe il mio libro no ma poi io non so scrivere non ho intenzione di fare queste robe perché devo poi io magari mi danno un sacco di soldi e dico di sì e ci vediamo l'anno prossimo invece che combattere il capitalismo ne entrerò a fare parte allora mi metto l'illuminante adesso e cosa ne penso degli altri che da un punto di vista cioè dell'approccio al lavoro cioè nel senso loro fanno bene a farli cioè è un modo per guadagnare molti soldi fare pochissima fatica perché tanto quanti di questi libri sono scritti da loro ovviamente dipende sempre ci sono alcuni youtubers che magari portano la loro attività il loro attivismo online e questo portarlo online gli ha dato la possibilità di diventare famosi e conosciuti negli ambiti che trattano quindi sono magari persone competenti che semplicemente si spostano su un'altra piattaforma invece che farlo solo offline e questo secondo me cioè è giusto anzi è bella per loro secondo me chi è furbo dal punto di vista della gestione delle proprie risorse di veicolare le proprie attività online per ottenere cose secondo me fa bene cioè dal loro punto di vista è giusto cioè anche perché purtroppo il mercato si compone di domanda e offerta ed evidentemente le case editrici hanno trovato una fetta di mercato che era vuota dove magari molti non leggevano e hanno trovato il modo di far leggere dei prodotti editoriali quindi secondo me bravi anche chi li propone eccetera poi dopo che abbiano senso dipende molto dalla persona però insomma io non li demonizzo perché alla fine sono una di quelle cose che comunque fa andare anche un po' avanti l'editoria ecco niente direi che questa era l'ultima domanda quindi insomma direi che siamo arrivati in fondo anche oggi spero che il mio trucco sobrissimo vi piaccia dovrei mettere forse anche qualcosa sulle labbra magari allora le opzioni sono del fucsia proprio fucsia e un rossettino invece violaccio mi sa che metterò questo così richiamo gli occhi questa è una cosa di revolution che si chiama no perfection yet parlate per voi non mi dispiace cioè è un po' carico è tutto molto carico oggi ma tanto alla fine non ci interessa ti dirò proviamo a mettere una puntina così abbiamo utilizzato tutti e due abbiamo fatto anche il punto luce sulle labbra quindi abbiamo fatto un sacco di cose oggi niente io spero che insomma queste chiaccherine insieme siano state utili siete stati molto cattivi con le domande perché sono tutte domande abbastanza esistenziali e io insomma mi sento sempre molto cialtrona a darvi consigli terra terra però ragazzi insomma teniamo dura insieme sempre in questi casi e insomma spero che il video vi sia piaciuto che sia stato un momento divertente dove parlare di make up è solamente una cosa molto secondaria e niente io come sempre vi ringrazio e direi che noi ci vediamo alla prossima